Una foto pubblicata a mezzo social dal Servizio di Sicurezza Ucraino, che mostra le truppe raccolte attorno a un veicolo blindato, annuncia un avanzata militare di diverse decine di chilometri in alcune aree del fronte meridionale, nei territori conquistati dall'esercito russo. Le forze ucraine sono entrate nella città orientale di Kupiansk, vitale fulcro di rifornimento per Mosca che l'aveva conquistata a fine febbraio. Un portavoce dell'esercito ucraino rende noto che Kiev ha ripreso il controllo di oltre 30 insediamenti occupati dai russi nella regione intorno a Kharkiv. Nel frattempo, nei territori liberati, le comunità non più occupate stanno tornando alla vita. È in corso lo sminamento dell'area. Le unità della Guardia Nazionale Ucraina stanno conducendo misure di stabilizzazione. Il lavoro della Polizia Nazionale è ripreso e si registrano numerosi crimini commessi dal nemico sul suolo ucraino. La Russia intanto raggruppa le sue forze dopo l'annuncio delle vittorie di Kiev nell'est. L'esercito russo ha lasciato la città di Isium, nella regione di Kharkiv. Il vice ministro dell'autoproclamata Repubblica di Donetsk, Bisonov, conferma a mezzo social parlando di errori di alto comando.